Ciao a tutti ragazzi da 100% Ciociaro e benvenuti in questo nuovo video. Il Frosinone vince a Como per 2-0 e complice le sconfitte del Genoa e della Regina si porta rispettivamente a più 11 e a più 12 sul secondo e terzo posto. Quindi un turno di campionato veramente importante questo per il Frosinone che determina un allungo che può significare tanto per noi questa squadra dopo la partita di Genova non ha perso la concentrazione che l'aveva contraddistinta si è rimboccata le maniche e ha affrontato ogni partita con la giusta consapevolezza con i mezzi che sa di avere a disposizione, con le qualità che ci sono e che giornata dopo giornata, partita dopo partita sono maturate in ogni reparto. Un Frosinone che sa quello che vuole in campo, ripetiamo tante volte, sa gestire i momenti della partita con il Como al primo minuto un'azione di insigne, poi però il Como non sta a guardare, si fa avanti verso la porta di Turati e forse è stata la partita in cui Turati è stato più impegnato in questo campionato, molto impegnato veramente con un attacco comunque quello del Como abbastanza vivace con Cutrone soprattutto io l'ho seguito alla radio, mi sembra di capire comunque un Como molto pimpante nel primo quarto d'ora Parigini, Cutrone, ripeto, ci stava provando il Como a fare questo gol del vantaggio che non è arrivato, poi però il Frosinone si è preso il controllo della gara da un'azione di calcio ad angolo abbattuta da Lulic, la palla arriva fuori dall'area di rigore per Mazzitelli che si coordina e tira dal volo mettendo il pallone in rete, fantastico Frosinone che continua a spingere, ci riprova diverse volte in contropiede e poi arriva il 2-0 firmato da Giuseppe Caso un giocatore straordinario servito da Moro, Caso fa lo scavetto e batte il portiere del Como per il 2-0 Frosinone che potrebbe allungare anche nel primo tempo Caso prova a imbeccare Moro per ricambiare il favore ma nulla di fatto e quindi un primo tempo che se inizialmente ha visto un Como molto vivace poi vede il Frosinone controllarlo in agevolezza nel secondo tempo la partita si ferma intorno al 23esimo inizialmente dalla radio si percepiva solamente che c'è stata un'invasione di campo di un tifoso del Como che era andato verso la panchina di Moreno Longo per dirgli qualcosa gli steward l'hanno portato fuori poi però si è capito che quel tifoso stava avvisando che c'era un altro tifoso nel settore del Como che si era sentito male quindi tutti i soccorsi del caso sono dovuti intervenire e si sono dovuti attendere una ventina di minuti circa per stabilizzare il ragazzo quindi momenti anche non semplici poi dalle notizie che sono uscite oggi sembra che abbia avuto segni di ripresa quindi speriamo che vada tutto per il meglio partita che dicevo rimane ferma per una ventina di minuti quindi poi riprende il Como prova a farsi vedere verso la nostra difesa aveva un'occasione per portarsi sul 2 a 1 due minuti dalla fine circa siamo già forse nei minuti di recupero e la spreca e per noi la spreca intanto era ripreso il gioco un'occasione per Moreno mi pare che calcia da fuori o dal limite comunque e Gomis è bravo a intervenire e Borrelli che lo stesso si trova davanti Gomis che gli nega il gol quindi il Como poteva riaprirla e noi potevamo chiuderla definitivamente una partita che quindi ci vede ancora una volta vincere contro squadre del lato destro della classifica attendevamo poi oggi le sfide del Genoa e della Gina che hanno perso quindi bene così adesso una sfida sicuramente non semplice soprattutto per lo storico degli ultimi anni quella con il Cittadella negli anni il Cittadella inizialmente ci portava bene poi abbiamo avuto un momento di sbandamento ogni tanto quando abbiamo incontrato il Cittadella soprattutto perché c'era Beretta che Beretta noi ci segnava sempre però Beretta adesso è andato via quindi per fortuna quindi adesso testa al Cittadella e proseguiamo questo campionato come stiamo facendo fino adesso con la consapevolezza di essere capaci di fare qualcosa di veramente importante per questo video è tutto mi invito a iscrivervi al canale e mettete mi piace e noi ci vediamo alla prossima per Cittadella ciao